Con il dottore Luigi Campanella, amministratore unico della Multiservizi, allora questa mattina c'è stato tra virgolette il taglio del nastro della farmacia municipale 2, un importante intervento di restyling che adesso è arrivato a compimento, quindi questa mattina c'è stato il momento ufficiale di inaugurazione e io le volevo chiedere un commento a caldo. Ma in effetti sono veramente contento del nuovo stile che ha giusto la farmacia, perché le farmacie dovrebbero essere, radursi da una volta che era il luogo dove venivano somministrati solo farmaci per le malattie, adesso dovrebbe diventare anche un luogo dove c'è la possibilità di prevenire le malattie e quindi essere un luogo in cui il benessere la fa da padrone su quello che è anche la malattia stessa. Nello specifico, velocemente, quali sono stati gli interventi di restyling che sono stati apportati? Ma gli interventi più importanti sono tutto l'aredo e quindi l'esposizione di tutto quello che sono i prodotti dei farmaceutici e soprattutto l'illuminazione, che essendo un'illuminazione a led rende anche la farmacia un ambiente più accogliente. Assolutamente sì. Quindi, come diceva lei prima, la farmacia oggi diventa anche un punto dove le persone possono chiedere informazioni e consigli. Possono chiedere consigli e informazioni per avere anche dei prodotti con cui permettersi di star bene e quindi non ammalarsi, piuttosto che rendere solo un servizio di farmaco per la malattia. Ecco, per la città di Fossano che cosa rappresenta questa farmacia? Ma è una delle poche farmacie nella parte bassa della città e quindi il fatto di avere una farmacia, diciamo, moderna o almeno che sia adeguata ai tempi, secondo me per la città è veramente una cosa importante. Grazie. 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 Grazie.